Ciao a tutti, nella videoricetta di oggi voglio andare a preparare un risotto particolare ma molto buono, un risotto con fragole e merluzzo. Il merluzzo io abbiamo un filetto di quelli suggelati, l'ho fatto scongelare e l'ho sfilacciato tutto, invece le fragole le ho tagliate a tocchetti così. Adesso andiamo a far soffriggere il nostro merluzzo e ci aggiungiamo il riso e facciamo prenderebbe il gusto. Ho messo a scaldare dell'olio, adesso aggiungiamo il nostro merluzzo tagliato a tocchettini, andiamo a mescolare, prendiamo un mestolo qua, sentite che inizia va bene a soffriggere e ci aggiungiamo già subito il riso. Io ne ho un bicchiere che corrisponde sui 100 grammi di olio e lasciamo prendere ben gusto per 2-3 minuti. Adesso andiamo a sfumare con il nostro brodo che ho preparato prima. Lasciamo evaporare leggermente il brodo. A questo punto qua adesso andiamo ad aggiungere le nostre fragole. ed adesso mescoliamo e lasciamo cuocere una ventina di minuti. Dimenticavo, ricordiamoci di aggiungere il brodo perché se no altrimenti bruciamo il tutto. Ecco qua il nostro risotto merluzzo e fragole, un accostamento molto particolare ma molto molto buono. Ci vediamo nella prossima videoricetta.